Paura questa mattina a Besenzone per un camion ribaltato, fortunatamente nessuno è rimasto ferito, il mezzo ha perso il carico di Mangime, disagia il traffico per il recupero. La cattedrale ha ospitato la tradizionale festa di laurea dell'Università Cattolica, 300 laureati magistrali e triennali hanno celebrato il traguardo con il lancio del tocco. Mattinata di manifestazioni a Piacenza, in centro il corteo del sindacato USB per i diritti dei lavoratori della logistica, alla pertite passeggini per dire no al nuovo ospedale nell'ex area militare. A 22 anni ed è una studentessa universitaria la nuova Miss Piacenza, Laura Fregoni è stata eletta ieri sera in Piazza Cavalli durante i venerdì piacentini. Momento di festa per la Placenza Alf Marathon a Villa Tavernago, gli organizzatori hanno ringraziato sponsor e collaboratori dell'evento di Sport e Beneficenza.